Ari, puoi fare il trucco della ragazza stalker? Ok, proviamoci Amo, amo, amo! Non hai idea di chi ha appena incontrato in corridoio? Eh, chi hai beccato? Simone, il malessere dei malesseri Ma quello della terza C? No, amo, quello era l'altro No, questo è quello che va in quarta A e che prende il 52 Ok, dopo nell'intervallo con me, così lo becchiamo No dai, non c'ho voglia di uscire nell'intervallo Prego, 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 prego Va bene Grazie, 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 ti amo Hai salito il numero dei follower Da 103 a 104 Ah, adesso tanto scopro chi è Tu non sei normale Oh, già, ma abbiamo fatto i contact Praticamente siamo già sposati Eh, vabbè, mo' non esagerare Ma secondo te sai il mio nome? Che ne so io Ma dopo poco scoprirò anche dove abita Non ti sopporto più